Ciao signorina, sei andata in stalla a fare il tuo giretto? Sono fatto il mio giretto e adesso vado a casa. Ah ok. Bisogna muoversi, bisogna muoversi, sì. Una passeggiatina in mezzo alla stalla. Ci vuole, è che c'è troppi sassi. Eh, andiamo piano, ti accompagno, prendo il tuo braccio e andiamo. Che dici? Sì, sì. Oggi? Dico che oggi ho fatto una passeggiata. Domenica, la prima domenica di autunno, 6 ottobre cosa fa? Sì, forse la prima domenica di autunno. Però fa ancora calduccio oggi, eh? Sì, si sta bene. Sì? Ok, finiti i sassi. Adesso cosa fai? Il tuo giretto poi andiamo a bere il tè? Sì, poi andiamo a bere il tè. Adesso do da mangiare un po' alle vacche, li metto contro l'erba. Già da bere? Sì, gli do anche da bere. Ma c'è la beveratoia, mamma? No, c'è quelli che non c'hanno là. Ah, ok. Va bene. Guarda come vai bene oggi, eh? Oh sì. Oh sì, sì. Oggi si va via come un razzo. Ti prepari per quando vieni a casa il Davide che è andata a fare qualche giro? Andato. Eh, lui vuole andare a fare qualche giro. Vedi? Ma come vai benissimo oggi? Vedi che muoverti un po' ti fa bene? Dobbiamo fare un po' di footing. No, ma vengo giù tutte le mattine nella stava. Ah, lo so che viene a controllare se faccio i lavori giusti. No. No. A dar da bere. Ah, ok. Vedi che ti hanno chiamato le mucche. Ha sentito la voce. Ha sentito la voce. Va bene. Non c'è come parlare per farle perché sentono subito. Senti le. Sì, sì. Sentono subito. Ha piovuto un po', c'è un po' di fanghello, eh? Sì. Ha piovuto. Come siamo eleganti oggi. E l'ha detto anche quella donna. Ah, le gali che passano ti fanno i complimenti. Vedi quell'ascia lì è andata giù. Adesso poi lo tiro su. Però bisognerebbe mettere una cosa là. Va bene, agli ordini capo. Va bene, faccio tutto. Dai, ci vediamo dopo? Sì, sì, ci vediamo. Ciao, ciao. Ciao, ciao.